ciao pinkies benvenuti o bentornati sul nostro canale oggi siamo qui per fare un video della rubrica tiger ecco qui ho preso una cosina e poi la solita busta sorpresa la busta sorpresa di gennaio anche nel 2023 ho deciso di portarvi la tanto amata rubrica di tiger una busta al mese barra due buste al mese e apriamo insieme vediamo cosa troviamo ma prima di iniziare se vi ho fatto questa tipologia di video e volete supportare il canale non esitate ad iscrivervi attivando la campanellina e a mettere un super pollicione blu che per me continuerà a rimanere blu e a seguirmi sugli altri social instagram pinterest tiktok e tutti gli altri o anche twitter sapete eccetera come sa volevo dirvi questa cosa che è fondamentale la busta sorpresa facciamo la foto per la copertina siamo la foto per la copertina ok la busta sorpresa che vedete in questione è la busta sorpresa presa al tiger di vicenza quindi un tiger diverso da tutti gli altri il tiger di vicenza ma iniziamo il video che sennò qua l'intro viene troppo lunga quindi sigla bene allora adesso vi mostro prima l'oggetto che ho comprato e dopo aver dimostrato l'oggetto che ho comprato andiamo ad aprire la busta sorpresa questo oggetto provo a farmi insegnare la mia zia e poi in un altro video vedremo come funziona allora questo qui è uno strinken duncan che un lighting doll ovvero una bambola per fare il cucito esattamente per fare il filato di lana il lavoro a maglia quindi eccola qui è un set corredato da colori bambola e non si vede l'ago adesso vi mostro da dietro vedete colori algo set e bambola la bambola è fatta così e vedremo come funzionerà in un prossimo video prima imparo e poi vi faccio vedere in un video creativo ma adesso veniamo al punto succulentissimo la busta una sorpresona di tiger l'ho poggiata qui sul tavolo in questa location la busta la diamo a mia madre perché sono intasati in casa mia quindi lei avrà una bustona da poter utilizzare a suo piacimento mettiamo qui lo scontrino tanto questa busta qui l'ho sempre pagata a 4 euro e quindi lo sappiamo la night in doll costa 2 euro almeno nel tiger dove sono nato io siccome una catena dovrebbe essere tutto uguale ma non si sa mai qua ecco qua vedete è ancora chiusa la busta quindi la busta è chiusa adesso non mi resta che aprirla e come sempre faccio vedere a voi io non guardo allora devo dirvi che sono stato questa volta a differenza delle altre a selezionare in base al peso come facevo le prime volte perché non c'erano molte buste nel tiger di vicenda genera sulla una xd che stelle da sei euro e poi c'erano quattro così e una della vecchia guardia intendo dire ancora con i qua che secondo me quelle dei pua erano che ho aperto nel video vecchio se vedete se l'avete visto se non ve lo lascio qui nei live informazioni e quella la era una busta sorpresa secondo me natalizia quindi l'ho evitata guardate voi dentro estraiamo la prima cosa questa cosa qui che sentite no va bene flag pics sono delle bandiere stuzzicadenti scusate delle bandiere stuzzicadenti per i vostri parti bellissimi l'italia non ha neanche partecipato ai mondiali ma va bene pb day queste me le porto a milano che sono utili sono delle targhete per dire buon compleanno ad attaccare i regali molto carine fate vedere anche a voi bene mostro dritte ecco qua devo dire utili allora prendo questa cosa qui speriamo siano della misura 39 41 me li faccio andare bene perché ho 41 42 ma me li faccio andare bene 39 41 io il 42 va bene carini verdini socks non capisco a si ecco vi vedere sono calzini bassini comodi utili sempre l'unica cosa che si vedeva dallo blog erano questi calzini che ho pregato fino all'ultimo fossero della misura non sono proprio della misura perché ho 41 42 ma comunque calzano abbastanza poi entro una cosa grossa e una cosa prendiamo prima la cosa grossa e poi rimane un ultimo oggetto no vabbè l'ho sempre visto da tiger questo e non l'ho mai 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 preso è un porta foto della dimensione 20 per 30 cioè ci stanno 25 foto scusate 10 per 15 che ci hanno 25 foto 10 per 15 cioè guardatelo a forma di macchina fotografica così e vedete giri giri inserisci le foto ovviamente io non facendo foto non lo userò perché non faccio foto a livello stampato proprio e l'unica cosa che ce l'ho qui vicino a me è questa che può stamparmi delle foto però non credo che stamperò sempre informatici per 15 o o potrei anche provarci ma dubito fortemente che 10 per 15 ci vado cioè vedendo alla dimensione di questa che è una 6 non è proprio il suo quindi non so come lo utilizzerò al massimo potrei fare delle illustrazioni cartolina che regalo che vendo e potrei inserle dentro ecco già trovato l'utilizzo perfetto utile anche l'abbiamo reso utile anche questo facendo delle illustrazioni che potrei stampare su cartoncina poi vendere portare agli eventi fare book set perfetto con i prezzi top lo stampo di cartoline 10 per 15 e voilà abbiamo trovato l'utilità poi c'è l'ultimo petto almeno credo no c'è ancora qualcosa questo pezzo attenzione cos'è è anche in celofanato un porta candele credo guardatelo così si presenta vedete con tutti i test che pensare della collezione di halloween e dentro è così secondo me è un porta candele di quelle lunghe veleggiamo subito leggiamo subito cosa dice anche in inglese di light holder si porta candele ti light holder controlliamo cosa dice qui porta lumino si light holder porta lumino un bellissimo porta lumino che regalerò a mia madre questa me la tengo perché torna utile per gli scrap torna utile per tutto guardate che bella carta ogni volta tiger a questi motivi così suggestivi che davvero belli poi prendiamo l'ultima cosa che c'è nella busta sorpresona e poi è vuota davvero guardate è vuota ed è questa penna un'utilissima penna quattro colori che non ha il design della quattro colori pilot però è carina addirittura al grip ergonomico al colore verde il colore rosso il colore blu e il colore nero bellina divertente carina dai approvata insomma tutto sommato una bella busta alla busta sorpresa dovete dare un voto nei commenti da 1 a 10 io dò 7 perché è una bella busta un po povera però bella povera ma bella nel senso che in quelle di milano che costano stesso prezzo trovo tanta più roba magari trovo roba meno utile alla mia persona ma trovo tante più cose quindi siccome questa qui non me faccio niente non perché non sia utile una pena 4 ma perché sono pieno a casa ho addirittura ancora una pilot quattro colori in cielo fanata ne ho due aperte cioè sono zeppo strazeppo neanche se dovete iscrivere per tutti i santi registei la regalerò sempre mia madre il resto invece che sono uno due e tre me li tengo bene se vi è piaciuto questa tipologia di video volete supportarla e non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivando la campanellina mettete un super pollicione blu e seguitemi sugli altri social vi voglio bene pinkies alla prossima busta sorpresa se non l'avete fatto guardate la playlist di tiger per non perdervi o per recuperare pardon le buste sorpresa che ho aperto le volte precedenti che non avete visto alla prossima pinkies vi voglio bene perché ricordatevelo sempre siete voi rosa che fa venire la magia se non ci foste voi io sarei niente alla prossima